Buon pomeriggio a tutti dalla Key Energy 2023. Sono lieto di presentarvi le nostre soluzioni per le installazioni fotovoltaiche. Abbiamo due range, due prodotti, due linee di prodotti. La linea di prodotti per l'inverettor di stringa è con un nuovo prodotto molto interessante per il mercato. È un trifase per l'industriale di potenza 100 kW, il R-serie. Non dimentichiamoci che abbiamo anche i ibridi che sono per il single phase dunque monofase. Come le trifase. Un'ampia gamma di soluzioni di batterie che sono da 2.5 fino a 4.8 kWh. Dunque, è anche a breve, avremo un prodotto per il commerciale e l'industriale nel campo inverter più batterie. Dunque, sono contento di avervi presentato le nostre soluzioni e siamo sempre alla vostra disposizione per darvi tutte le informazioni sui nostri prodotti.